Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo di nuovo su Clash Royale 4106 coppe e oggi guardate un po' che cosa abbiamo a disposizione Eccola qua, offerta speciale premio, offerta limitata una sola volta abbiamo il pacchetto arena leggendaria, il baule defini... no, il campione definitivo, il baule costruibile una leggendaria, 50 epiche, 250 rare, una cosa mostruosa, più 100.000 d'oro andremo a shoppare questa offerta oggi e mi raccomando proviamo a raggiungere 1500 mi piace per questo video per questa offerta eccezionale perché... beh, tanta roba, scade tra 8 ore e 52 minuti beh, tempo ce ne abbiamo per comprarlo, sicuramente sì dopodiché andremo anche magari ad aprire sto baule gigante, anzi, prima il baule gigante e poi andremo a comprare appunto l'offerta volevo vedere un po' le carte che ci mancano, beh, la fuorilegge e lo stregone elettrico insomma, questo è quello che abbiamo a breve saranno disponibili altre 3 carte questa carta è molto molto figa, la nuova strega molto molto interessante, non vedo l'ora di poter prendere queste due carte la... molto molto figa la fuorilegge è sicuramente una carta molto forte perché calcolate che io ci ho giocato contro una volta soltanto e mi ha praticamente spaccato malissimo veramente molto molto forte oggi grazie alla domenica che è domenica ho potuto appunto prendere il boia e portarlo a livello 4 dato che ce l'avevo, cioè ho richiesto le carte e mi hanno portato il boia a livello 4 che è forte, anche il boia è una bella carta questo attualmente è il deck che sto utilizzando dovrei portare su alcune carte per esempio lo spiritello del ghiaccio voglio però aspettare perché magari trovo qualche leggendario posso portare qualche leggendario per esempio questa la posso riportare a livello 3 questa a livello 2 attualmente non mi interessa portare il leggendario a livello 2 il boscaiolo perché non lo utilizzo voglio richiedere attualmente non sto richiedendo carte particolari volevo portarmi su alcune cose ovviamente questo è presto per portarlo a grader al 10 sarebbe una scalatona volevo portare il lord, la gang di goblin in verità a livello 11 perché è molto forte attualmente sono in lega sfidante 1 vorrei arrivare minimo sfidante 2 sfidante 3 sfidante 3 non ci sono mai arrivato a 4600 coppe il mio record attualmente di coppe è record stagionale vabbè questo è il record stagionale il record maggiore 4330 e starei praticamente proprio qua sfidante 2 sfidante 3 tanto maestro non penso di arrivarci maestro 2 poi c'è maestro 3 campione campione grandioso e campione finito campione finito non so se esista gente che già sta a campione finito io non credo eh infatti no 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 5700 ok si stanno avvicinando un sacco questo è il deck che stanno utilizzando col gigante il solo combo col gigante a cimitero molto forte insomma questa è carina come tecnica secondo me lo stregone elettrico ci manca tenteremo appunto di prenderlo comunque nei prossimi nel prossimo giorno queste sono le battaglie quelle tra clan sono fighissime in botto mi sono piaciute un sacco e stavo pensando anche le varie strategie vabbè insomma signori penso che potremmo iniziare ad aprire già subito il baule questo qua perché baule gigante ci vuole 328 carte magari troviamo qualche cosa di molto molto figo vediamo un po' 1800 d'oro che fanno sicuramente comodo 10 i goblin cerbottanieri ci stanno variate da battaglia pure anche e la gang di goblin che riusciamo finalmente a portare a livello 11 295 proprio una bestia mostuosa molto 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 bene va bene ragazzi allora siamo pronti per shoppare l'offerta mi raccomando giù di mi piace ci siamo via oh oh free aspetta aspetta fermo fermo no aspetta un attimo almeno due cose importantissime la prima cazzo shop io ho 25 euro sei scemo punto secondo devi chiedere i like quanti no 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 adesso no perché i like qua sono fondamentali noi si fa la shoppata tu mi chiedi minimo 2000 like no che ho sentito prima ma chi è ma che è 2000 mi piace minimo per la mega shoppatona qua ci facciamo cazzo però free subia subia non va bene ti vantavi oh ma io trovo le leggendari senza shoppare senza shoppare poi ti trovo a shoppare il baule costruibile e dai free subia comunque dai speriamo di trovare qualche leggendario magari la fuorilege tanta roba dai bocca al lupo dai mi piace però non è colpa mia voi capite che lui entra fa come gli pare io mi scuso tanto per questi piccoli inconvenienti incidenti di percorso però tanto vive qui purtroppo anche lui siamo condizionati a vivere nella stessa casa se lui entra quando gli pare vabbè Jarvis mi rimetti la grafica grazie eccoci qua bene grafica tornata siamo rimasti al punto iniziale pronti stavolta per shoppare senza interruzioni e dai forza andiamoci a vedere stare sto pacchetto arena leggendaria adesso eccoci qua baule costruibile in atto tutto è pronto l'attesa è presso che è finita mamma mia già siamo a 137 mila d'oro mostruoso poi che cosa scegliamo spiriti del fuoco goblin lanceri scegliatore spiriti del fuoco ok mamma mia quanto casa oddio lapide o torri torri inferno torri inferno poi goblin lanceri goblin lanceri goblin lanceri a bestia sono emozionato vi giuro fireball tutta la vita proprio perché la uso un bot la fireball mega sgherro per 205 fotonico il baule il coso il mega sgherro lo portiamo tra un po' al 9 eccole qua già una leggendaria già una leggendaria troviamo due leggendari oh madonna due leggendarie due leggendarie due leggendarie nello stesso due leggendarie nello stesso baule troviamo io mi prendo lo stregone ghiaccio e guardate che troviamo due leggendarie che spettacolo che spettacolo che spettacolo incredibile 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 fotonico fotonico due leggendarie nello stesso baule due cazzo di leggendarie che spettacolo abbiamo trovato tutte e due principessa e fuori legge ma che spettacolo sto show ma che spettacolo che spettacolo grandi eccezionale incredibile una cosa del genere baule fotonico eccezionale abbiamo trovato tutte e due le nuove leggendarie due nuove leggendarie per noi ma che spettacolo ma che spettacolo incredibile possiamo portare anche gli scheletrini a livello 5 li miglioriamo subito possiamo a sto punto migliorare anche il spirito del ghiaccio spirito del ghiaccio facciamo quanto cazzo ci frega è forte io lo utilizzo attualmente si a livello 11 ce lo porterei volentieri portato questo a livello 11 ci possiamo spendere un po' di roba no ma che spettacolo ma che spettacolo abbiamo trovato pure la fuorilegge e lo stregone elettrico tutte e due le nuove leggendarie spettacolare fantastico eccezionale veramente veramente eccezionale un culo così non mi era mai capitato due leggendarie nello stesso baule due leggendarie nello stesso baule mostruoso veramente abbiamo tutte le leggendarie siamo tornati ad avere di nuovo tutte le leggendarie magari troviamo qua un'altra ma veramente fantastico abbiamo tutte le nuove carte finalmente tutte le carte ma qui qui si vola che spettacolo adesso ho costruito sto piccolo deck proprio velocissimo voglio provare un attimo voglio migliorare intanto queste due carte i goblin la gang di goblin e voglio migliorare anche gli arcieri velocemente e poi volevo provare sta fuorilegge proprio subito velocemente senza fare battaglie perché non so minimamente come fa no perché poi nel clan non c'è nessuno quindi comunque voglio provarla fuorilegge in maniera proprio rapidissima vediamo che cosa dice che cosa viene fuori ma che spettacolo ragazzi un baule così proprio mai in tutta la vita ma proprio mai 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 ok questi mi dovranno spaccare ecco non me l'hanno spaccati quark vabbè vabbè non è male io le direi la proverai subito non so come va come funziona non sono abituato cioè non l'ho mai usata ah danni ne fa fa un botto di danni in verità la cosa gli spacco male questo e poi ci butti a mezzo la gang di goblin che farà il suo dovere a spaccarli male ecco qua questa roba va bene lui mi tira un cosa un fantastico tronco per buttarmi giù tutto e adesso utilizziamo log rider vediamo che cosa possiamo fargli ah lui si difende non è messo benissimo se si difende così e tac e li butto dietro la fuorilegge guarda un po' lui ha sprecato un botto dell'isir no zappa 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 veloce vediamo vai oh che spettacolo ma guardate quanto gli ha tolto cioè se ti fa la carica è straforte peccato che deve prima uccidere i cosi eh oddio non lo so non saprei veramente come valutarla devo essere sincero però secondo me ci può stare un botto potrebbe essere una carta interessante da utilizzare sicuramente da utilizzare sta non so ancora bene che deck farci metterci intorno però potrebbe essere davvero una bella carta molto molto forte zap mi serve una zap gang di goblin un attimo perché ecco poi se no mi stuprano male utilizziamo utilizziamo un attimo la zap veloce bravissimo perfetto anche lui utilizza la zap certo è in vantaggio perché ovviamente questo è un deck costruito così alla buona non che sia proprio studiato dietro a tavolino e tutto il resto però stanno sul culo sti cosi ho sbagliato a mettere lo spirito del ghiaccio porca troia aspettiamo comunque adesso utilizzeremo gli arcieri magari per bella l'idea di dividerle invece questi no 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 ok primo massacrato massacrato anche quello vai con log rider e vediamo che cosa succede abbiamo anche la zap a disposizione zap beam zappa zappa buono ok così va bene guardate che siamo in partita siamo in netta partita proprio al 100% questo mettiamo qua questi se riusciamo uno esplode così l'altro esplode malissimo guardate che ci dovremmo anche essere ci potremmo essere alla grande come cosa tap zap ok buono uno quella lì avevamo smontata calcolate questa smontata alla grandissima perché faccio una roba del genere e via ok che la smonterà anche lui per carità però guardate che abbiamo possibilità il megasguerro non l'ho utilizzato mai praticamente non che mi interessi particolarmente tanto però vabbè ci sta ho sbagliato no è andata bene è andata molto bene il megasguerro farà il resto o che tu metti due fornaci vicine che sei proprio stronzo se metti due fornaci vicine ok mettiamo la gang di goblin qua in mezzo e poi ci mandiamo log log rider a spaccare tutto come se non ci fosse un domani in maniera proprio rude e cattiva vai così zap no non è andata proprio proprio come pensavo ci mettiamo questo e ci mettiamo anche i cosi vai così spacca questo spacca questo no 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 e niente ci ha spaccato malissimo però vabbè ci siamo difesi per essere appunto una carta che utilizzavamo un deck che utilizzavamo la prima volta con una nuova carta ci poteva stare abbastanza tu me la metti di qua zap no 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 l'ho presa male e niente va bene ok buono mi è piaciuta fuori legge promossa al 100% deck non è male ci si può provare ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook e farmi lasciare le persone mi raccomando passate in tutti i link in descrizione facebook instagram e telegram ci siamo come al solito un prossimo video ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti.